Tutti negativi i tamponi effettuati nella RSA di Bediatedalda, ad annunciarlo è stato il sindaco Alberto Santucci. L'esito del test era particolarmente atteso, il piccolo comune della Valtiberina era stato infatti profondamente colpito dall'emergenza sanitaria. Un caso positivo era stato riscontrato anche tra gli anziani ospiti della RSA, un altro invece tra gli operatori. Da qui l'isolamento, utilizzando addirittura la cappella del paese come camera per dividere meglio gli anziani l'uno dall'altro. I successivi tamponi sul personale erano poi risultati tutti negativi, ma comunque era necessario ripetere il test a diverse settimane di distanza. Così, dopo le sollecitazioni del primo cittadino, erano stati eseguiti lo scorso sabato, li testa nuovamente su tutto il personale e gli anziani della struttura. Adesso finalmente la buona notizia. Nel piccolo comune, inoltre negli ultimi giorni, si era anche registrato un boom di guarigioni 17 in soli tre giorni. Era così arrivata anche la chiusura della zona arancione, che per settimana aveva bloccato le uscite dal comune, se non a fronte di motivi di effettiva necessità e di un permesso dello stesso sindaco. Il primo cittadino, infine, ha comunque chiesto che i tamponi, almeno nelle RSA, vengano ripetuti ogni 21 giorni, sino a quando non sarà stato prodotto un vaccino.